il coro nel brano il coro ci sono scritti all'inizio del pentagramma due bemolli che sono il si e il mi questo vuol dire che ogni volta che troviamo la nota si non dobbiamo suonare il tasto bianco ma al suo posto il tasto nero non questo ma questo la stessa cosa vale per il mi non dobbiamo usare il tasto bianco ma al suo posto usiamo il tasto nero la posizione delle mani la mano sinistra mette il mignolo sul fa e poi le altre note e le dita in fila fa sol la si bemolle e do subito accanto la destra con il pollice sul re il mi bemolle fa sol la parte la sinistra perché la mano destra alla prima battuta ferma a solo pause mano sinistra ci sono due pause in cui la sinistra è ferma e poi la mano destra infine le due mani insieme Siamo.